Costituire un tavolo tecnico sulla sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso aperto alle associazioni che compongono l'osservatorio indipendente sull'acqua e cioè WWF, Legambiente, Mountain Wilderness, Arci, Pronatura, Cittadinanza Attiva, Guardie Ambientali d'Italia, FIAB, CAI, Italia Nostra e FAI. E' la richiesta diretta alla regione che arriva dopo la manifestazione di sabato scorso a Teramo che ha visto la partecipazione di circa 3.000 persone per l'acqua trasparente. Le associazioni ambientaliste dicono di essere riconosciute dalla legge come portatrici di interessi collettivi e diffusi garantiti dalla Costituzione. Sul tema della partecipazione, sottolineano ancora gli ambientalisti, c'è un primo importante risultato. L'osservatorio è stato contattato dal segretario generale dell'autorità di distretto idrografico dell'Italia centrale, Erasmo D'Angelis, che ha sottolineato come sia fondamentale il coinvolgimento delle associazioni della società civile nel tavolo nazionale nato per discutere della messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso. Tra le altre richieste c'è la valutazione di incidenza ambientale dell'esperimento SOX da condurre all'interno dei laboratori di fisica nucleare sotto il Gran Sasso. L'osservatorio ha poi valutato positivamente l'impegno dei sindaci, affermato nell'assemblea dell'8 novembre, ribadito dal presidente della provincia di Teramo al termine del corteo dell'11 novembre, di essere pronti a impugnare gli atti autorizzativi dell'esperimento SOX. Le associazioni ambientaliste hanno affermato la necessità di mettere in campo una vera e propria strategia legale su tutti gli aspetti legati alle interferenze fra l'acquifero, l'autostrada e i laboratori del Gran Sasso, affinché si possa garantire la salute degli oltre 700.000 abruzzesi che ogni giorno bevono l'acqua che arriva dalle pendici del Gran Sasso. L'osservatorio indipendente dell'acqua chiede anche l'impegno delle forze politiche, ha invitato infatti i parlamentari abruzzesi a farsi promotori di un'azione decisa sui vari ministeri competenti affinché si possano accelerare sia il processo per l'individuazione della soluzione definitiva al problema dell'interferenza che l'adozione di misure immediate per l'azzeramento del rischio incidenti. Infine, l'osservatorio sollecita il coinvolgimento delle commissioni ambiente di Camera e Senato è annunciato che nei prossimi giorni scriverà ai presidenti dei due organismi per approfondire la problematica dell'acquifero del Gran Sasso anche attraverso apposite audizioni.